Sempre più spesso gli operatori chiedono maggiore flessibilità alle nostre macchine. Gli ambienti in cui operano i nostri escavatori sono i più vari. Si va dal carico allo scavo, alla piccola demolizione e le attrezzature stesse utilizzate sono molteplici. Martelli demolitori, benne e trinciarbusti. Oggi grazie alla collaborazione fra Eurocomac e Bosch Rexroth siamo orgogliosi di presentare al mercato mondiale la prima applicazione IOC di serie su di umidi escavatore e siamo riusciti a mettere insieme tutte queste esigenze. La tecnologia IOC consente all'operatore di interagire tramite il display di bordo con l'elettronica della macchina modificando dei parametri funzionali del sistema idraulico quali delta P, gradiente di pressione, coppia o portata si riesce a modificare il comportamento dinamico e la produttività della macchina stessa. Questo significa movimenti lenti e precisi se le condizioni lo richiedono oppure una macchina veloce e produttiva al bisogno. Ed è questo quello che i clienti volevano. Il sistema IOC è attualmente utilizzato sui nostri midi escavatori da setonellate ma stiamo già lavorando per estendere il resto della gamma. Grazie a tutti! finalmente con questa macchina posso fare tutte le lavorazioni che voglio o ah 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 Oh, 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 oh.